E allora, ma benvenuti o bentornati sempre qui su iTechmania con Emilio Primavera Ragazzi, allora, sono passati ormai 5 giorni da quando vi ho parlato, vi ho mostrato l'unboxing dell'iPhone 15 Pro che è quello che ho scelto io quest'anno e vi ho raccontato un po' il day one eccetera eccetera Ora, oggi, dopo circa 5 giorni di utilizzo, ho deciso di fare questo video perché come avrete intuito come avrete visto dal titolo della copertina di questo video, ci sono alcune problematiche ma vi parlerò anche delle cose che mi stanno piacendo di questo iPhone Ragazzi, ovviamente questa non è una recensione in alcun modo, sono delle prime impressioni soprattutto per parlarvi di queste problematiche che stanno emergendo adesso che tutti gli iPhone sono nelle mani delle persone che l'hanno acquistato Quindi detto questo, cominciamo! Allora ragazzi, iniziamo subito da queste problematiche che sono emerse, dalla patata bollente Ecco, bollente forse è il termine più azzeccato Ebbene sì ragazzi, purtroppo, come mai quest'anno iPhone scalda? Questi iPhone 15 Pro perlomeno sembrano più colpiti rispetto ai 15 Pro Max che comunque si hanno un surriscaldamento ma minore forse anche perché essendo più grandi di dimensioni, penso io, hanno una dissipazione del calore migliore Ma iniziamo a noi, vi racconto l'esperienza mia, quindi in prima persona Già l'indomani del 22 settembre, quando vi ho portato l'unboxing, tra l'altro lo trovate qui su YouTube Vi lascio il link in caso in descrizione Ho notato che questo iPhone surriscaldava parecchio ragazzi Più del normale, più del dovuto Al che ho pensato, ma non lo so, magari deve finire qualche processo ancora, ha qualche processo in atto? Non lo so, ho aspettato anche l'indomani, purtroppo la situazione non è migliorata Cosa succede? Allora, succede che quando si utilizza soprattutto alcune app e mi sono accorto nel modo particolare Instagram L'iPhone bolle e la batteria ovviamente di conseguenza cala drasticamente E qui veniamo appunto al problema principale Non è tanto riscaldamento che, bene o male, è ancora ancora sopportabile Ma il problema è che porta a un calo della batteria Per farvi un esempio, in questi giorni stacco la batteria alle 9 E la devo mettere in carica già alle 5 del pomeriggio Cioè, faccio a malappena mezza giornata Situazione pessima, davvero Inizialmente il problema sembrava essere l'ultimo aggiornamento iOS 17.0.2 che è stato rilasciato solo per i nuovi iPhone In realtà, molti clienti mi hanno scritto dicendo che anche il loro 14 Pro riscaldava maledettamente ultimamente Quindi ad oggi ancora non si sa per certo cosa porta a questo riscaldamento su alcuni iPhone piuttosto che altri In realtà, sui 15 Pro un po' tutti Quello che posso dire io, rispetto alla mia esperienza, è che soprattutto Instagram fa bollire l'iPhone Quando resto per un po' su Instagram, ragazzi, le temperature salgono davvero tanto E comunque è un problema che ormai si è diffuso, se ne parla in giro, sono usciti articoli, eccetera Quindi non è stata solo una mia impressione iniziale per quanto riguarda appunto questo problema Fatemi sapere voi, che state guardando il video nei commenti, se avete questo problema Quale iPhone avete e quale iOS avete installato Ma passiamo ad altro, perché purtroppo i problemi per questi nuovi iPhone non finiscono qui È emersi infatti che diverse unità, non si è capito esattamente quante, io penso poche in realtà Soffrono di decolorazione delle cornici in titanio Online si trovano le testimonianze di tanti utenti che appunto hanno ritrovato il loro iPhone subito dopo l'unboxing Con cornici scolorite e addirittura in alcuni casi delle vere e proprie botte o graffi nella scocca in titanio Questo emerge di più in particolar modo sui colori scuri, nero, blu, però in realtà ci sono dei casi anche per quanto riguarda appunto questo, il titanio naturale Io fortunatamente ragazzi nel mio caso non ho questo problema, è perfetto l'iPhone quindi top, spero che siano dei problemi di pochissime unità Altri parlano invece di polvere all'interno delle lenti della fotocamera, quindi dei granelli di polvere proprio all'interno Ragazzi questo evince che cosa? Che diciamo che c'è stata una qualità costruttiva generale, un controllo qualità Non perfetto diciamo così per quanto riguarda questi nuovi iPhone Ora l'entità di questi problemi estetici non è da sapere, non c'è un numero, però ecco ci sono diverse segnalazioni ma non tantissime Quindi ragazzi non preoccupatevi più di tanto di questo, piuttosto se acquistate questi nuovi iPhone fate l'unboxing lì al negozio e controllate subito se ha problemi estetici Questo è un consiglio che vi do io E ultimo problema che è emerso da un video ormai famoso sul web dove uno youtuber ha mostrato come se fai una pressione qui nella parte centrale di iPhone questo si rompe Sì praticamente si crepa il vetro di dietro Ora questo succede, sembrerebbe di più sugli iPhone 15 Pro Max, forse appunto da delle dimensioni hanno una struttura meno resistente Ma in realtà ragazzi credo che questo sia dato dal fatto che Apple ha cambiato il processo costruttivo del vetro posteriore E l'ha reso più rimovibile, facilmente rimovibile in modo da andarlo a sostituire in caso di rottura E questo è un bene in realtà Quindi non lo so come prendere questa cosa qui Insomma, secondo me è un problema non problema Anche perché chi è che si mette lì con la forza a premere e a piegare l'iPhone Certo ragazzi il titanio prometteva una resistenza maggiore Però è proprio questa resistenza maggiore che lo rende in realtà meno resistente Ora mi spiego perché L'acciaio era un po' più flessibile come materiale Quindi nelle cadute assorbiva meglio le cadute Invece il titanio essendo molto rigido e resistente Che fa? Non le assorbe e le manda praticamente alla parte in vetro E qui ovviamente si creano delle crepe più facilmente rispetto all'acciaio Però per quanto riguarda la struttura della cornice Resta più resistente dell'acciaio È una cosa ovvia Ecco ora che ci siamo tolti tutte le problematiche che sono emerse in questi giorni su questi nuovi iPhone Alcune risolvibili Ad esempio questo del calore ragazzi Spero che sia risolvibile con un aggiornamento software Spero che lo facciano il prima possibile Anche perché se continua a riscaldare così la batteria si usurerà anche prima Quindi spero il prima possibile aggiornino O le app come Instagram che magari non sono ancora ottimizzate per il processore nuovo a 3 nanometri Tra l'altro il processore nuovo a 3 nanometri vuol dire che in realtà dovrebbe anche riscaldare meno E invece ragazzi siamo qui Secondo me è un mix tra il nuovo iOS e le app non ancora ottimizzate Gli voglio dare un po' di tempo Ne parlerò sicuramente nella recensione E spero che per quando arriverà la recensione abbiano già risolto questo problema Ma passiamo alle cose che mi sono piaciute ragazzi Perché ovviamente non è che ora qui vogliamo star qui a dire tutte le problematiche Le iPhone fa schifo eccetera No, sono le problematiche giusto che vengono evidenziate Ragazzi lo sapete io sono sempre onesto Do pro e contro di ogni cosa, di ogni prodotto che vi porto Quindi anche se amo i prodotti Apple Non è per questo che sono Apple fan E quindi devo parlare solo delle cose che mi piacciono È bellissimo, è fantastico No, assolutamente no Infatti oltre aver parlato adesso dei problemi Parliamo delle cose che mi sono piaciute finalmente Ragazzi è un iPhone leggerissimo Tanto leggero che mi è venuto per un attimo un dubbio Se prendere appunto il Max Perché finalmente non è così pesante come gli anni precedenti Però no, resto fedele al mio Pro Piccolino, compatto, comodo Nonostante la batteria cali drasticamente Altra cosa che mi sta piacendo tantissimo ragazzi È il tasto azione Sembrava una cosa un po' così no Però in realtà nell'uso di tutti i giorni Se è impostato con alcune funzioni che fate in modo ricorrente durante la giornata È davvero una comodità Io ad esempio l'ho impostato per aprire automaticamente il cancello Ma si può impostare per qualsiasi cosa E sicuramente ne parlerò meglio nello specifico durante la recensione Ovviamente anche il processore mi è piaciuto tantissimo Perché non ha mai un impuntamento davvero fluidissimo E ci mancherebbe direte voi Però ancora devo provarlo con i giochi AAA in uscita Sono curiosissimo di provarlo Soprattutto Resident Evil Ve ne parlerò sicuramente anche di questo aspetto nella recensione In questi giorni ho iniziato anche a fare qualche scatto E qualche video con le nuove fotocamere Ci sono una serie di nuove funzionalità Che andremo a spulciare nella recensione completa Ma che vi devo già anticipare Mi stanno davvero piacendo E nulla ragazzi Queste erano le prime impressioni Le prime problematiche che sono emerse Principalmente volevo fare questo video proprio per parlarvi di queste problematiche Che in realtà come vi dicevo Alcune saranno risolvibili sicuramente Altre speriamo che siano solo dei casi isolati Non diffusi Quindi non vi scoraggiate Se dovete acquistare Se avete già ordinato un iPhone 15 Pro o Pro Max Era comunque giusto parlarvene In modo che speriamo Apple risolva questi problemi Soprattutto lato software, il riscaldamento e il calo della batteria Detto questo ragazzi Ora lascio la parola a voi Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate di questi problematiche Se li avete avuti voi in prima persona Come va con il riscaldamento della batteria Anche magari dei precedenti iPhone Non per forza per chi ha acquistato i nuovi Insomma fatemi un po' sapere Così ne parliamo anche nei commenti Vediamo la situazione completa Detto questo Vi do appuntamento al prossimo video Ragazzi vi ricordo che il prossimo video sarà sulle cover Quindi ho raccolto tantissime cover Dei migliori brand Ovviamente di terze parti per iPhone Penso che entro domenica Pure prima uscirà il video E ovviamente avrò anche dei codici sconto per voi Che vi lascerò in descrizione Quindi mi raccomando Iscrivervi al canale Se non siete già iscritti Attivate la campanellina per non perdervelo E lasciate un like Se il video vi è stato utile O comunque vi è piaciuto Ci vediamo al prossimo Ciao 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 Grazie a tutti